Gastrite, colite, gonfiore addominali sappiamo bene che rendono molto molto difficili le nostre giornate. Non si digerisce bene, acidità di stomaco e chiaramente si fa molta fatica perché interagiscono con noi e moltissime ore del giorno. Sapete che il reflusso addirittura arriva dal fastidio persino di notte ma per tutti questi disturbi che soprattutto riguardano la nostra pancia, il nostro tratto gastrointestinale, un rimedio è il fitocolon. Fitocolon è un rimedio sempre completamente naturale nel quale abbiamo cercato di inserire un mix molto potente, molto importante, sempre arrivato dalla nostra fantastica natura. Abbiamo scelto dei prodotti come la boswellia che non è altro che l'incenso con una proprietà proprio calmante delle pareti dell'intestino se abbiamo crampi, se abbiamo troppa motilità intestinale allora andrà un attimino a tranquillizzare le pareti ma invece andrà a dare movimento se c'è bisogno dell'effetto contrario. L'incenso c'è anche in olio essenziale ed è una pianta importantissima non solo per il tratto gastrointestinale ma anche qui dà un beneficio incredibile. In più abbiamo aggiunto il carciofo perché spesso dicevo prima associati a gonfiore, dolore, c'è anche difficoltà a digerire, a mandare proprio i cibi bene 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 ad eliminarli con successo e spesso questo è una difficoltà. Non se prendiamo chiaramente il fitocolon che non va a far tacere i nostri sintomi ma va a pian piano a ristabilire tutte le funzioni iniziali che aveva il nostro organismo perché in origine queste funzioni c'erano assolutamente come fa un po' il nostro aloe. Quindi abbiamo detto il carciofo per aiutare queste difficoltà digestive e per far riprendere il fegato e cosa c'entra? C'entra perché chiaramente spesso le difficoltà digestive dipendono anche da un fegato un po' pigro, un po' lento perché fa un po' da padrone il nostro fegato perché davvero ha tantissime funzioni all'interno del nostro organismo. C'è l'MSM, sempre come forte antinfiammatorio, infatti lo trovate anche nel nostro cartilago per i dolori. Abbiamo del finocchio, della camomilla, il finocchio sapete che è famosissimo per togliere il gonfiore che abbiamo per i gas intestinali in eccesso e la camomilla si dice dove c'è tensione c'è camomilla e qui proprio per questo motivo l'abbiamo inserita. Del lino in polvere infine e della malva per regolarizzare tutto il transito intestinale ma con dolcezza, non con dei lassativi troppo aggressivi per il nostro intestino. Quindi fitocolon è il prodotto giusto e lo trovate all'angolo della natura. Grazie mille!